E benvenuti per questa nuova gameplay di Trenciao alla mia amica Può fare la manca di bar Ok, eccoci Abbiamo potenziato l'arsenale per 3 linea Fantastico, ci devono superare addosso Adesso è usanza accogliere i visitatori a colpi di cannone Chiedoveni, li abbiamo fatti montare appena qualche giorno Muori, patata I miei uomini si stanno ancora destrando I uomini si... Ecco Il cannone è puntato, il video non dovrebbe essere puntato Eh sì I miei uomini si stanno allenando, si sono quelli Dai, prendi Mario, prendilo E lì vicino, cazzo, hai sbagliato Non ti preoccupare, si stanno allenando Comunque, benvenuti per questa nuova gameplay della Yes Force Production Qui con Bale 93 Barbo Guardate i cavalli come sono fatti nel dettaglio Si vede ogni singolo muscolo Meno male che non c'è Bear Grylls da queste parti Sennò se li sarebbe mangiati per aumentare il suo tasso di sale in un corpo Sono ricchi di saline Bentornato, Ezio Ciao Ciao ragazzi Fatemi vedere E tu le chiedo sei Grazie Grazie Un po' quei due Questo bordo diventa sempre più bello Attenete a quei due Grazie a te Ah, ci metti i soldi, grazie Fratello Claudia Soella Fa piacere tornare a casa E nostra madre? Sta bene Avevo sentito dire che stavi tornando ma sono lieta di vederlo con i miei occhi La contessa di Forlì è qui per darti il benvenuto Ah Non pensavo che fossi tanto famoso Caterina È qui? È finita dunque Lo spagnolo è davvero morto Eh, non esattamente La sera raduno agli altri nello studio di Mario Spiegherò tutto La figura di merda non la fa Sarai bersagliato di domande Claudia Di alla canzessa che intendo con altri Ma davvero No È stata una scena emozionante Claudia Vitora C'è del database? No Eh, dunque Andiamo a fare questi ricordini di Ezio in giro per Monte Regione Notare come le caratteristiche delle città sono sempre queste Cioè, tecnicamente uguale all'AssassinCree 2 Ti amine Che? Tu chi cazzo c'è? Serve aiuto? Serve aiuto? Oh cazzo! Quanti fiori Vostro marito è molto fortunato Sono io la fortunata Ci siete voi ad aiutarmi Ma insomma, guardarla non mi sembra tanto fortunato mai Ma un modo fa sbattarsi tutto, eh? Eh, lo trovo Prima potrei avervi dato un'impressione sbagliata Ah sì? Tipo della zoncola I fiori sono per una festa E io sono invitato? Alla festa di compleanno di Claudia Auditore alla villa Se vorrete aiutarmi ancora Ho bisogno di una persona di classe che mi accompagni Cosa mi fa pensare che io abbia classe? L'ho capito appena che ho visto Ah Nessuno qui può vantare un simile portamento Lo stesso Ezio Auditore? Ma sono io! Impressionato Oh Che cosa sapete di Ezio? Claudia ne dice un gran bene Ma egli di rado le fa visita Da quanto ne so Tiene le distanze Avete ragione Le ho ottenute Zanzano Ah no! Voi? Sì La festa doveva essere una sorpresa E mo sono cazzo Promettetemi di non dirlo a Claudia Il mio silenzio è un prezzo, non credete? Confido di potervi offrire varie contropartite Sarò lieto di valutarle appena arrivata Ci puoi ma con qualsiasi cosa cammini Anche col cavallo di prima secondo me Sì E ora a proposito del mio silenzio Un'idea ce l'avrei Ma c'è una condizione Qualsiasi cosa Dovrete aspettare fino a domani Epic fail Se la cosa vi fa piacere Non sarò io ad oppurmi Dove si toccato Ai coltelli Fidatevi di me Che coltello Sì Ezio sei caduto in basso Due di picche Ezio Da un cesso Ti immagini? Ah Quindi Andiamo per il prossimo Dunque 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 Vediamo un po' Il prossimo dovrebbe essere Il tipo a cavallo Sì Fuori dalle mine Il tipo a cavallo Il nuovo film del maestro Bruno Liegi Baston Liegi Eccolo Buongiorno Ezio Adesso Mario mi ucciderà Il suo cavallo preferito È scappato Come lo vuoi la tonno? Desperatevi Lo recupererò io Dio vi benedica Ezio Ma dove cazzo è il cavallo? Eccolo Vieni qua bastardo Ho una certa età io Che cazzo? Sta via Per quello Bastardo Dopo ci farò anche con te cavallo Sì No Si fa anche quello Eh Ci mancherete Dov'è la mia La mia macerata? Non posso Non posso Sì Fottuto Ah Grazie alberi Insormontabili In questo gioco Tenete Grazie Ezio Non riesco più a badare Come si deve ai cavalli Sembra uno dei remaggi Non mi chiedete di godervi La vostra buona salute Non perdete tanto tempo In battaglia Come vostro zio Mario Le mie battaglie Sono già state vinte Ma che bella notizia Arrivederci Ezio Ma ho una domanda C'è una festa alla villa no? Perché non invita tutto il villaggio? Tanto sono quattro cristiani Cosa vuoi che facciano? Allora Il prossimo obiettivo Da questa parte Questo è il bordello della città Andiamo dai simpaticoni di prima Che ci hanno accolto A colpi di cannone Dunque Questi sono i nuovi cannoni Bastardi Sì messer Ezio Posso provarne uno? Sì ma Avanti Diglielo Noi non siamo riusciti a farli funzionare L'idiota che li ha montati Non si trova da nessuna parte E cos'era quella palla Che mi stava per colpire? Non vogliamo che sprechiate il vostro tempo Nessun problema Adesso ho tutto il tempo che voglio Anche per provarci con i gabinenti A quanto pare Si farà anche il cannone? Sì Ha un buco apposta Dove è cà? Eccolo Mentre si ubriaca per bene Salve messere Abbiamo bisogno di voi per sistemare i cannoni Lasciatemi in pace Io non sistemo nulla prima di mezzogiorno Ma guarda che sono le signore sono Costruisco cannoni io Non orologi Se siete impegnato Li sistemerà qualcun altro Un momento Nessuno tocca i miei cannoni Scommettiamo Ma che voce ha questa doppiatura? I soldati non hanno alcun rispetto Per l'artiglieria Si aspettano che fu... Oh no Abbiamo a disposizione solo dei semplici Dai cannone Io amo solo te Basta che si fai Un progetto proveniente dalla Francia Una sorta di cannone a mano Lo chiamano Assassino in ferro battuto Immaginate Un cannone portale Si chiama pistola Questo è il futuro Sì Si chiama pistola Si chiama archiburgo Archibugio Archibugio Ecco Due modi per dire la stessa cosa Eccovi nulla facenti di merda Fatemi vedere questo cannone Ci penso io Ma che cazzo ha deciso questo? Deve venire sì o no? Oh Prego Avanti cannone io ti voglio spiegare Cosa avete combinato? Li abbiamo usati? Non sono pronti per sparare Madonna Avreste potuto ucciderci tutti? Fatemi vedere Il suo alito è ancora più letale dei cannoni Solo se siete voi due idioti a usarli Ecco Provate una Sembra di sentire Sembra di sentire Il dottor Cox e Kenzo Che batti peccano Oh E adesso ci si diverte Ma perché io posso colpire la gente? Io voglio colpire la gente Ancora Sì ma che palle Ma soprattutto perché cazzo non salta all'aria quella cosa Oh Dai che non ho tanto tempo Sennò YouTube mi mangia con i vini E sono Quattro Ok Vado a per punti di cannone E Ite ciao Almeno qualcuno qui sa come si Eh beh Ora passiamo all'altro Devo andare Grazie di averci aiutato Se domani all'alba sentite sparare non preoccupatevi Saremo noi che ci esercitiamo Come stamattina Peccato che non vi servirà Divertete Ora riparate il secondo cannone Eh Si vogliono bene Anche noi ti amiamo Anche noi ti amiamo Finisce qua Questa gameplay della ES4 di Assassin's Creed Brotherhood Ci vediamo Ok Brotherhood Ci vediamo per la prossima qui da Vale 93 Bar E Brotherhood Anche noi ti amiamo 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 Grazie a tutti.